eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al tg code per non perdere l'ultima notizia già ho visto che il 39 per cento di chi vede il tg code non è iscritto quindi ragazzi è gratis mi raccomando supportate il tg code iscrivendovi poi salvatevi in descrizione il primo link in descrizione che appunto alla mia collaborazione neba per comprare tantissimi videogiochi nuovi e vecchi con tantissimi sconti troverete anche dei bonus e delle skin esclusive per quanto riguarda mv2 e poi vi aspetto alle 14 come sempre su twitch per le live giocherò insieme agli abbonati risponderò a tutte le vostre domande eccetera 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 quindi vi aspetto ragazzi alle 14 in diretta ma partiamo subito perché erano stati pianificati dei contenuti aggiuntivi di mv 2019 che praticamente sono stati tagliati la notizia arriva direttamente dal dataminer mv2 intel che ha scoperto queste importantissime informazioni che vi riporto quindi mettetevi comodi sentite bene che cosa c'era all'interno di mv 2019 che poi non è stato praticamente rilasciato innanzitutto uno dei ride su cui si era lavorato ha scoperto che era praticamente identico alla ride episodio 2 di mother warfare 2 ciò è ulteriormente dimostrato e dichiarato il dataminer dalla playlist ride ancora presente all'interno di mother warfare 2019 infatti mostra degli screen dove si vede proprio la playlist ride parte 1 e ride parte 2 non so se queste immagini posso pubblicarle per motivi di copyright però comunque ve ne parlo perché è una notizia veramente molto ma molto importante quindi ride o era già in fase di test su mother warfare 2019 oppure era un contenuto che doveva arrivare su mother warfare 2019 e poi l'hanno posticipato direttamente per mv2 altra notizia sempre importantissima che arriva ad mv 2019 è la questione delle armi infatti si è scoperto sempre dentro ai file di gioco che dovevano arrivare delle altre armi che poi purtroppo non sono state rilasciate parliamo dell'honey badger parliamo dell'intervention parliamo dello spas 12 parliamo del glock 17 parliamo dell'ump.45 consigliate che l'ump.45 che prenderà il nome di striker.45 arriverà addirittura dentro a mv3 il data miner specifica anche se non siamo sicuri che siano stati utilizzati solo a scopo di test hanno comunque vantaggi specifici per i v8 che ovviamente il motore grafico in essere quindi veramente molto interessante questa notizia di questi contenuti presenti all'interno di mv 2019 ma a quanto pare tagliati per futuri capitoli della saga rimaniamo sulla questione invece di mv3 perché abbiamo preso l'argomento per la questione dell'ump perché in queste ore sta trapelando un interessante rumors sulla possibilità di vedere un bundle come è stato per mv2 tra il nuovo capitolo della saga di call of duty e playstation 5 con un vero e proprio bundle a riguardo al momento ci sono queste informazioni si parla della possibilità di ricevere una playstation 5 con l'edizione quella disco quindi con la possibilità di leggere icd e un codice digitale con di mv3 versione cross gen edition al momento i prezzi si parlerebbe di 539 quindi 540 dollari negli stati uniti 730 dollari in canada e quindi queste sembrerebbe ragazzi la situazione attualmente dei prezzi ovviamente dovremmo stare intorno ai 499 550 euro per quanto riguarda l'europa molto presumibilmente vi terrò aggiornati a riguardo al momento non c'è nessuna conferma da parte di activision di questo rumors però comunque dato che era già stato confermato era stato già rilasciato per playstation 5 un bundle con mv2 molto presumibilmente ci sarà anche con questo capitolo che sarà l'ultimo che avrà come sapete l'accordo commerciale con playstation perché scadrà a gennaio 2024 ma continuiamo con le notizie perché ieri in live mi avete continuato a segnalare un problema molto importante il fatto che anche se siete arrivati a livello 21 della demon 9 mm non vi sblocca la versione akimbo ieri ho segnalato nuovamente la cosa raven software al profilo ufficiale di code update e ad infinity world quindi cercherò come sempre ragazzi di far sentire la voce della community verso gli sviluppatori voi come sempre quando passate in live segnalatemi i problemi i più frequenti li vado a segnalare direttamente alle varie software house quindi mi raccomando cerchiamo di far sentire la voce calda della community italiana invece mancano praticamente adesso poco meno di due settimane alla fine del più bel capitolo a mio avviso della storia di warzone parliamo di warzone 1 non parliamo di warzone pacific perché caldera a mio avviso è stata una delle peggiori mappe anche se adesso in season 5 con la season 5 finale di caldera era stata comunque migliorata ma all'inizio pessima di una lentezza senza palloncini una vegetazione pazzesca non capisco come si faceva a dire che era una mappa bellissima allo start quindi veramente improponibile questa mappa di caldera soprattutto al lancio comunque morirà proprio warzone 1 morirà morirà quel gameplay morirà insieme a verdans che morirà insieme a reberda e morirà insieme a fortune keep morirà appunto una dei capitoli br che ci è piaciuto veramente di più se non il capitolo della batteria che ci è piaciuto di più perché warzone 2 non ci ha dato le stesse sensazioni del primo staremo a vedere adesso con l'uscita di mv3 questo nuovo emove mentre l'integrazione con warzone warzone cambierà il gameplay a dicembre la nuova mappa principale se potrà mai darci le stesse sensazioni ed emozioni che ci ha dato il primo lo trovo lo credo veramente molto difficile comunque mi scenderà la lacrimuccia il 21 di settembre quando praticamente chiuderanno i server andiamo avanti invece con le notizie perché il note insider al fe invece ha riportato con questa grafica i dieci giochi di call of duty più venduti degli ultimi anni si parla di unità vendute come potete vedere domina la classifica call of duty black ops con 31 milioni di copie vendute lo segue mv3 al secondo posto con 30 milioni modern warfare 2019 con 30 milioni cold war 30 milioni black ops 2 29 milioni call of duty ghost 28 milioni call of duty black ops 3 26 milioni modern warfare 2 del 2009 25 milioni call of duty advanced warfare 21 milioni call of duty vv2 della sledgehammer games con 19 milioni non è presente attualmente modern warfare 2 che a quanto pare già dei numeri dovrebbe dominare questa classifica perché presumibilmente stanno aspettando il termine del suo anno di vita per poi portarlo in questa classifica comunque una classifica molto interessante che ci può far ragionare in che numeri hanno avuto i precedenti capitoli della saga notizia molto importante invece per chi sta aspettando payday 3 ragazzi vi ricordo esce il 21 di settembre e lo porterò in live quindi aspettatevi tanti contenuti su questo titolo dove si vanno a fare le rapine giocherò con gli abbonati quindi mi racconto se da amazon prime e non vi aspetto su twitch questa è la roadmap del primo anno che è stata rilasciata proprio ieri dallo sviluppatore di payday 3 dove vedrete appunto i contenuti per l'inverno per la primavera per l'estate per fine 2024 inoltre oggi alle 14 inizia la open beta esclusiva xbox e pc e terminerà l'11 settembre intorno alle ore 18 quindi approfittatene scaricatela oggi pomeriggio ma riparleremo anche in live chiudiamo il tg code con un'onlesima skin rilasciata ieri sera una skin che mi avete chiesto quindi il nuovo pro pack questa volta dedicata alla season 5 che è disponibile per 2400 o meglio include 2400 color duty point il suo costo è di circa 20 euro ed ha una skin cosmetica con tutte le armi a tempo sempre a skin cosmetica e mi ricorda tantissimo la famosissima mimetica dark matter molto comoda perché comunque si spendono 20 euro ve ne ridanno comunque 2400 quindi si può comprare poi un'altra skin del pro pack è uno dei pochi bundle che dà comunque il vantaggio di avere praticamente due skin allo stesso prezzo questo era tutto quello ragazzi e volevo dire il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi se è nuovi alle 14 live vi aspetto e noi ci vediamo domani con un nuovo video